Ma qualcuno di voi potrà domandarmi, ma padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni? Sì, si può. Ma questo significa che dobbiamo pregare tutta la giornata? No, no. Quello significa che tu devi fare il tuo dovere tutta la giornata. Pregare, andare al lavoro, custodire i figli, ma farlo tutto col cuore aperto verso Dio. Con questa voglia che quel lavoro, anche nella malattia, quella sofferenza, anche nelle difficoltà, quelle difficoltà, siano aperte a Dio. E così diventeremo santi. Si può.